Teramo città di cultura, l'amministrazione comunale punta il rilancio culturale della città attraverso il recupero di spazi, eventi di alto livello e il ripristino di un budget annuale da devolvere alle associazioni culturali cittadine. Tornano gli incontri in Pinacoteca, a giorni riapriranno la sala espositiva di Via Nicola Palma e i locali dell'Arca, mentre stanno per partire i lavori di ristrutturazione del Museo archeologico. Oggi inizia una nuova fase che abbiamo definito della riapertura culturale, riapertura sia in senso fisico con l'annuncio della riassegnazione alla città dello spazio espositivo di Via Nicola Palma, dopo tanti anni con un grande sforzo che è stato fatto da questa amministrazione, ma una riapertura soprattutto nel dialogo con tutti gli attori culturali e sociali della nostra città. Questo percorso di rivitalizzazione culturale di Teramo troverà il suo apice a fine anno, quando il Consiglio Comunale voterà una delibera storica per la città, l'inizio lavori per il recupero del teatro romano. Questa è la grande sfida, ovviamente insieme al recupero di quelli che sono gli spazi straordinari, le bellezze straordinarie che appartengono al patrimonio storico, culturale e archeologico della nostra città, una su tutte, il teatro romano, su cui stiamo cercando di arrivare entro la fine dell'anno all'approvazione del progetto definitivo, un momento storico per la nostra città. Attendiamo, speriamo che tutto vada bene, comunque siamo ormai in fase di definizione del progetto definitivo, poi possa aprire le porte al recupero di un'area che forse, attraverso una rifunzionalizzazione vera, reale, che deve essere il simbolo forte del rilancio complessivo della nostra città.